Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati qui su Minecraft Signori Vi ringrazio sempre per i commenti e per il supporto che è data alla serie Siamo dove siamo lasciati ieri praticamente, dentro la grotta col nostro diamantozzo qui alle spalle Che ora con calma e assieme scopriremo quanti sono, quanti sono, là c'è la reddition e là si sale E allora sarebbe bello almeno tre, almeno tre, almeno tre, ho paura che sia solamente uno Però fossero almeno tre sarebbe tanta roba e uno solo signori, mannaggia è uno solo E uno solo porca miseria, speravo fossero almeno tre per poterci fare un piccone e invece è solamente uno Delusione più totale, delusione più totale, no sono due, sono due, ok, 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 due, due, due Ce ne manca solamente uno, ce ne manca solamente uno, per riuscire, ce la lava qua sotto Stiamo stati attenti che non ci sia la lava sotto, ok, ok, abbiamo due diamantozzi signori Abbiamo due bellissimi diamantozzi Ne dobbiamo trovare solamente uno, un altro, ne dobbiamo trovare solamente un altro per fare un piccone L'obiettivo è riuscire a fare un piccone e un altissimo in caverna portarci a casa l'ossidiana E intanto portarcela, poi dove fare il portale queste cose poi le vedremo successivamente Perché anche dove andare a sistemare il portale non sarà la cosa più facile di questo mondo Ma ci lavoreremo anche su quella, attenzione Ok, ricominiamo questa redstone che abbiamo detto, ci serve Non ho visto giusto a che livello era quei diamantozzi 51, quindi 54, forse il livello era quello, il livello è buono Io sto provando a salire per vedere se ci sta qualcosa da questa parte Stiamo attenti a non cadere perché la lava alle nostre spalle è sempre presente Ma di qua mi sa che non si va da nessuna parte Potremmo fare un poco di scavo così a caso nella roccia E vedere, però aspetta di qua si scende di nuovo C'è un altro laghetto di lava, ci ricongiunge a quello Può essere di sì, può essere di no L'unica cosa contenta di questa esplosizione è che non stiamo incontrando mob Questa è una cosa bellissima Non incontrare mob è una cosa bellissima Non abbiamo a che fare con zombie o altri esseri strani Ok, qua c'ho il lagodava, là c'è un poco di ferro Che potremmo andare a prendere Vediamo, fammi andare da questa parte Vediamo se per caso troviamo qualcosa Non penso Vediamo se troviamo qualcosa di qua Qui è tutto così L'accia del ferro, sì, ma mi sa che qua appunto finisce Finisce tutto Mi sa che qui finisce tutto, sì Sì, niente signori, qui c'è solamente quel pezzettino di ferro lì Il gioco non vuole neanche tanto la candela Perché mi sa che è un pezzettino solo, è proprio perso lì Sono due pezzettini Lo recuperiamo Allora, facciamo una cosa Torcita qua Così, anche se ora l'acqua me la farà andare via Acqua, come se non ci fosse un domani La torcia infatti si era andata A quel paese Acqua, chiudiamo tutto Torcia subito Ok E recuperiamo Ma quello era un bug video Ok L'ho recuperato, non lo so Questo lo possiamo recuperare Ok Proviamo a scavare così in maniera randomica Signori, vediamo a che livello siamo A meno 54 Poi se li becchiamo così i diamanti Proviamo a scavare un po' in maniera così randomica Non lo so, lo vedo difficile Tra l'altro il piccone Il primo piccone di ferro della serie ci sta per abbandonare No, niente signori Così è troppo complicato Così è troppo complicato Cerchiamo zone già aperte In cui possiamo tranquillamente metterci A cercare Perché a questo punto conviene fare dei tunnel vicino casa E iniziamo a farci Gli scavi le gallerie vicino casa nostra Così è troppo complicato Allora qui se non ricordo male C'era della lava Sì Tirchia con il gioco Nonostante gli stiamo dando tanto supporto e tanta fiducia Il gioco con noi è stato un poco tirchio Qui c'è un'altra valle di lava Ma non vedo diamanti da questa parte Mi li dai per caso così randomici Io scavo e tu mi dai un diamante Uno me ne serve Porca miseria Uno che compare così da nulla Uno che compare così da nulla Niente Niente da fare Siamo saliti qua sopra ma non ci da diamanti Siamo stati fortunati con quei due diamanti di lì praticamente Qui c'è tanta lava E niente diamanti Niente da fare signori Ci stiamo provando ma non ci riusciamo Che poi magari infatti basterebbe forse Poi la solita cosa Forse basterebbe poi scavare un blocco in più E lo trovi capace il diamante Mi sono spaventato Sono onesto con voi Mi sono spaventato Mi è scoppiato il piccone davanti alla faccia Mi sono saltato in aria Allora Facciamoci qualche altro stichettino Perché l'altro dobbiamo farci anche delle Delle torce che stanno a finire Allora Tre pezzi li consumiamo qui E questo lo possiamo mettere di qui Consumiamo pure i picconi di pietra Significa così facciamo spazio nell'inventario E siamo tutti più contenti Allora questo me lo rimettete qua Questo me lo rimettete qua La crafting table la recuperiamo La crafting table la recuperiamo Le torce che abbiamo fatto le mettiamo nella mano E la crafting table la è messa qui Va bene E consumiamo questi picconi di pietra Sono ranno un pochino più lenti Su questo non c'è dubbio Ma quantomeno Li consumiamo e li leviamo dall'inventario Proviamo a scavare così in maniera randomica Facciamo un tentativo così Può essere che siamo fortunati e becchiamo Due diamanti così A caso Senza ne sapere né leggere né scrivere Dai Due diamantozzi così Due diamantozzi dammeli La redstone Che ci devo fare con la redstone? La redstone non mi serve più a niente Voglio i diamanti Voglio i diamanti Porca miseria Meritai due diamantozzi Dai Dai Uno Anche uno Uno Perso Sperduto Ti prego Niente Non ci vuole accontentare Non ci vuole accontentare Minecraft Niente da fare Torniamo indietro signori Torniamo indietro Cerchiamo nuove zone da esplorare Nuove zone da esplorare Attenzione La lava E' pericolosissima Allora Noi siamo saliti Ok Qua sotto dovrebbe esserci la lava Se non ricordo male Qui dove abbiamo trovato i diamantozzi Allora scendere di qui significa morire Non è vero? Sì Ed è l'ultima cosa che noi vogliamo Perché tra l'altro abbiamo pochissimo cibo Quindi lanciarci così nel vuoto Sinceramente anche no Di qua possiamo scendere Secondo me Mai scavarsi sotto i piedi Un consiglio Spassionato da un giocatore Di Minecraft Da tanto tempo Mai scavarsi sotto i piedi Ok Quindi qui abbiamo trovato i diamanti Dove li potremmo trovare? Altri diamanti Di qua C'è qualcosa di qua Se scavo di qua C'è qualcosa E dai aspetta aspetta Qualcosina c'è C'è una bella Una bella apertura No Che finisce subito qui Praticamente sì Mettiamo l'acqua Mettiamo l'acqua E andiamo a vedere Mettiamo l'acqua Andiamo a vedere Ok Di là si sale Ma di qua non ci sta più niente Completamente Di qua siamo asciutti totali Asciutti completi Asciutti completi signori Niente da fare Neanche da questa parte Siamo fortunati? No Per niente C'è qualcuno che diceva Che dietro Il tuffo Di solito Dove c'è il tuffo Ci sono diamanti Ma non Non ci credo Non penso sia Sia vera questa cosa È inutile continuare a scavare di qua Va bene Va bene Torniamo indietro Torniamo indietro Di qua si sale Di qua c'è il lago di lava Dal quale noi non siamo andati Però di qua Può essere Abbiamo girato da quel lato Di qua Non ci siamo andati E allora ci andiamo signori Mettiamo acqua E viaggiamo Acqua si viaggia signori Acqua si viaggia Torcina C'è il diamantozzo Porca miseria Non mi deve dare nemmeno un diamante Quanto mi dà Fastidio questa cosa Uno me ne serve signori Uno Un solo diamante Abbiamo fatto Tre episodi di esplorazione Tre episodi di esplorazione Non mi danno nemmeno un diamante Dai Non ci credo Me ne serve uno Uno me ne serve Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Uno Astag mannaggia a te ragazzi Se siete arrivati a questo punto del video Mi raccomando Astag mannaggia a te Mi serve un diamante signori Non finiamo questo video Fin quando non trovo un diamante Guarda preferisco Mettere il video in pausa E trovare un diamante Per forza Lo devo trovare Lo devo trovare Dobbiamo recuperare L'ossidiana signori Se no non andiamo da nessuna parte Signori Pausa Pausa fin quando non Non recupero un diamante Uno me ne serve E uno me lo devi dare Signori L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Ce l'abbiamo fatta signori Uffa Mamma mia Ho girato 70.000 70.000 caverne L'abbiamo trovato Uno Me ne basta uno Dico però Se vuoi fare La persona corretta Me ne puoi dare Magari più di uno Magari Due Due tre Magari Ok due ci sono Quindi sono Sono in questa direzione Due ci sono Due Dai cazzarola Dammene qualcuno in più Dai non essere veramente così Tirchio e pillico Mannaggia a te Me ne ha dati due signori Me ne ha dati semplicemente due Va bene Ci basta Tre 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 Sono tre Sono tre Sono tre Sono tre Sono tre Sono tre Bella così signori Bella così Fuori mi sa che c'è un temporale Ma a noi non interessa Mangiamo le bacche Qualcuna la dobbiamo conservarla Perché dobbiamo Fare il discorso Del Come cazzarola si chiama Crafting table Signori Perché il momento È di quelli Importanti Il momento è di quelli Importanti Signori Il momento è di quelli Importanti Allora Crafting table Tre diamantozzi Dici ma stai spiegando Tre diamanti per Sì signori Perché facciamo così E taglie così E l'era del diamante Ce l'abbiamo pure Ritami questa Che dobbiamo recuperare La crafting table Ok Mi serve ora Una pozza di lava Che questo dico Che può anche andare bene Tanto nessuno ne sentirà La mancanza Buttiamo l'acqua Taglia così Signori Ci recuperiamo La nostra bellissima Ossidiana Che però Io devo fare Un attimino una cosa Allora Rompi questo Ce la lava sotto No Perfetto Metti il blocco d'acqua Perfetto Signori Iniziamo a scavare Come se non ci fosse un domani Signori Devo recuperare Tutta l'ossidiana Possibile e immaginabile Quindi altro stop Altro stop Perché ci vorrà tanto Ci vorrà tanto Da quello che vedo Da quello che vedo Ci vorrà tanta pazienza A recuperare i blocchi di ossidiana Che però Fermi tutti Io devo recuperare i blocchi di ossidiana Sì Quindi questo Me lo puoi buttare Ok Piccone sinceramente di pietra Non ci serve Signori Ci serve l'ossidiana Quindi recuperiamoci Tutta questa ossidiana Che c'è qui E poi torniamo A casa In qualche maniera E siamo tutti contenti Signori Possiamo fare tante cose Possiamo fare tante cose Possiamo costruire il portale Possiamo abbellire il nostro mondo Con Con Possiamo fare il tavolo degli incantesimi Pure Signori Grande progresso Grande progresso Dobbiamo prendere tanta tanta ossidiana Va bene Taglio 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 Signori Ci vediamo quando sto per tornare a casa Se no Episodio troppo noioso Troppo noioso Allora Io direi di fare un bellissimo buco Verso l'alto Così Vediamo un attimino di Tornare su Velocemente A casa nostra Senza perdere tempo Ok Signori Siamo riusciti a tornare Dove c'era la nostra oasi incantata C'erano le nostre bellissime torce Quindi Torniamo su Da questa parte Sono stati fortunati A trovare nuovamente La nostra Aspettate Io Sono arrivato da qua Giusto Mi fate confondere Sono Da dove cazzo L'ho arrivato Sono arrivato Da qua Giusto Sì Ho chiuso la mia strada No La mia strada per salire è questa di qua Ok Ok Giustamente Avevo levato il blocco di ferro Perché se no non riuscivo ad andare avanti Ok Perfetto Torniamo su Torniamo su Signori Siamo sani e salvi Siamo sani e salvi Bellissimo Un'avventura Un'avventura che È finita bene Dopo una prima morte con l'enderman Che ci ha Fatto Che ci ha scoraggiato parecchio Parecchio Siamo riusciti a portare a casa Una bellissima avventura Una bellissima avventura Ce l'abbiamo fatta Ora con calma Torniamo su Torniamo 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 su Torniamo su Abbiamo trovato i nostri bellissimi Diamantozzi Andiamo a vedere La luce del sole Che non vediamo La luce del sole Da parecchi giorni Da parecchi giorni E finalmente Ce l'abbiamo fatta Sto vomitando Come stiamo vomitando All'andata Sa scala fatta Così è terribile Pensano Ci saranno i gradini E potremo volare Ancora di più Perché qua c'è mezzo albero Peppe La rana Peppe Cosa è successo A quest'albero Perché c'è mezzo albero volante In questa serie Stanno diventando Tutte cose volanti Non è buona come cosa Non è buona come cosa Che sono tutte cose volanti Però va bene Dormiamo velocemente Signori Dopodiché Chiudiamo questo video E ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Fatemi dormire Fatemi dormire Prima che poi succeda Qualsiasi cosa Vedo il drago Diamanti Scintillante piccone Metallico Perfetto signori Allora Fatemi fare Diamantozzi qui E ossidiana in mano Signori Questo Questo è quello che volevamo Questo È quello che volevamo E questo è quello Che siamo riusciti a ottenere Signori Detto questo Con i nostri bellissimi diamantozzi E l'ossidiana in mano Signori vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui domani Per un nuovo appuntamento In cui Vedremo cosa Cosa ci porta il destino Vediamo cosa riusciamo a fare Nel prossimo appuntamento Bella Ciao Ciao